Io non credo onestamente che nei prossimi anni non ci sia la mancanza di neve. Io vengo da una regione come il Piemonte, sono nata a Cuneo, che è un paese dove nevica molto e ci sono stati anni in cui nevicava poco e anni in cui nevicava di più. Adesso che siamo in una situazione emergenziale, perché non so se voi mi potete smentire, ma così poca neve e temperature così alte forse non le avevamo mai vissute. Ma non possiamo ancora dire che questo è strutturale e che il clima sarà così nei prossimi anni, perché credo che questo nessuno lo possa dire.